Sull'accordo per il patto di stabilità firmato dal Presidente della Regione Francesco Pigliaro e il Ministro dell'Economia Carlo Padoan, l'opposizione di centrodestra non molla la presa. Non solo conferma il giudizio fortemente negativo sull'intesa definita a ribasso, una fregatura rifilata dal governo Renzi dopo le sentenze della Corte Costituzionale a favore dell'Isola, ma anche una violazione delle prorogative del Consiglio regionale che di fatto sulla vicenda è stato esautorato. Il centrodestra stamattina ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Gli esponenti dell'opposizione intendono chiedere al Presidente dell'Assemblea Gianfranco Ganau di richiamare la Giunta ad un corretto rapporto con il Consiglio regionale. Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pitalisi sta vagliando la possibilità di presentare una mozione urgente in Consiglio. È incomprensibile come il Consiglio sia stato completamente esautorato da una vicenda di questa portata, ha sottolineato il capogruppo. La Giunta si è limitata a presentare alla stampa il documento firmato a Roma senza informare l'Assemblea di nulla. Ma il centrodestra non boccia solo l'accordo sul patto di stabilità per il 2014, che consentirà alla Sardegna di spendere 364 milioni di euro, ma anche quello per il 2015 che prevede il pareggio di bilancio. La verità è che il risultato storico l'ha raggiunto il governo, che da oggi potrà determinare le entrate alla Sardegna in una materia che fino a ieri era in mano alla nostra ragioneria, ha sottolineato l'ex governatore Ugo Capellaci. In sostanza abbiamo rinunciato all'autonomia, ha concluso l'ex presidente, che nell'immediatezza della firma dell'accordo aveva definito l'intesa come una pattaca rifilata dal governo Renzi alla Sardegna.